Sono rimasti ancora in corso i due siti della Trapanese a Fulgatore da Caratafimi per realizzare il deposito nazionale di scorie nucleari. Tatti pareri contrari, interventi di segno opposto da parte dei politici, costituzione di un apposito comitato. Ma gli esperti in realtà cosa dicono? Interessante certamente il parere del professore Marco Enrico Ricotti, ordinario di ingegneria nucleare presso il Dipartimento Energia del Politecnico di Milano. Il mio pensiero è sull'idea di costruire un deposito nazionale di rifiuti radioattivi molto semplice e diretta. L'Italia deve realizzare un deposito nazionale per gestire al meglio in sicurezza i propri rifiuti radioattivi. Tutte le nazioni che hanno centrali nucleari in funzione e in dismissione hanno il proprio deposito nazionale e anche i paesi che non hanno centrali atomiche ma usano sorgenti radioattive nella sanità, nell'industria e nella ricerca. Noi purtroppo siamo da tempo in infrazione con l'Europa per questo. Costruire un deposito nazionale penso sia una dimostrazione di civiltà, di competenza e di consapevolezza e non solo di sicurezza. I fattori principali da considerare nella selezione di un sito idoneo ad ospitare dei rifiuti radioattivi sono identificati da normative e linee guida internazionali e nazionali. Poi c'è l'esperienza operativa di depositi in decine di paesi, europei e non. N'estrema sintesi si devono preferire zone non troppo sismiche, lontane da mari, da fiumi e da importanti presenze di falde sotterranee. L'acqua è uno dei principali problemi nei secoli. Ha debito a distanza da importanti infrastrutture e da grandi segnamenti abitativi. Ma in sostanza molti dei problemi possono essere risolti con una progettazione ingegneristica adeguata. Ricordo sempre che depositi di rifiuti radioattivi sono situati in Giappone, che è un paese altamente sismico, e nella zona dello Champagne in Francia. Bisogna sempre ricordarsi poi che quando pensiamo a un deposito di rifiuti radioattivi immaginarsi una discarica è profondamente sbagliato. Il deposito è un vero e proprio impianto industriale, è altamente strutturato, è pulito, è controllato, è ordinato, niente a che vedere con una discarica di rifiuti convenzionali. Grazie.